Internazionalizzazione in primo piano alla 41esima edizione di Eima International, la rassegna mondiale della meccanizzazione agricola organizzata dalla Federazione Italiana dei Costruttori Federuna Coma, che si è aperta mercoledì 12 novembre alla Fiera di Bologna e che si concluderà domenica. La Kermes, che registra il record di aziende a essere partecipanti e il più alto numero di delegazioni per gli incontri business to business provenienti da ogni continente, vede anche una buona presenza di imprese pugliesi, ben 42 con una superficie espositiva impegnata pari a 2000 metri quadrati. Per le imprese della Puglia, che con oltre 158 aziende costruttrici si colloca fra le regioni più attive nella produzione di macchinario agricolo, l'Eima International rappresenta un'importante occasione di consolidamento e di crescita sui mercati internazionali. Una segmentazione per province d'appartenenza segnala il primato indiscusso di quella di Bari, che può vantare una rappresentanza di oltre 22 espositori, pronti a confrontare la propria offerta di tecnologie, con una domanda proveniente da ogni parte del mondo. Noi abbiamo un legame consolidato con le aziende pugliesi e il territorio pugliese, abbiamo in questa edizione 42 aziende per oltre 2000 metri e credo che questo sia nell'ottica di consolidare sempre di più i rapporti con le aziende del territorio pugliese, anche in funzione della realizzazione di Agri Levante, che è un altro evento sempre del nostro brand, organizzata da noi e che sta via via prendendo sempre più piede. L'Eima di Bologna è una vetrina molto importante e anche mondiale, per noi è una vetrina troppo importante per la nostra azienda e per i nostri prodotti, per i nostri settori, soprattutto nel settore della viticultura, lavorazione del terreno e trattamento delle piante. Noi siamo uno dei primi gruppi in Italia e esportiamo in tutto il mondo, nei paesi più importanti come la Russia, Stati Uniti, Cina, Australia, Sud Africa, Sud America. Questi sono paesi per noi fondamentali e che stiamo lavorando tantissimo. La manifestazione vede crescere ulteriormente la propria caratura internazionale, con riferimento sia alla presenza di industrie espositrici estere, che hanno già raggiunto il dato record di circa 600 sulle 1800 complessivamente presenti all'Eima, in rappresentanza di 44 paesi, sia in riferimento alla partecipazione di visitatori e di delegazioni ufficiali.